Allora siamo con Lucia che è qui ospite a Imperia. Innanzitutto da dove arrivi di preciso? Quanto tempo fa sei partita? Com'è stato il viaggio? Come è stato il viaggio? Come è stato il viaggio? Sei venuto in pullman, in macchina? Come è stato il viaggio? 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 Come è stato il viaggio in Italia? L'italiano è stato molto bello, emozionale, mi ha avvenuto il tempo. L'hanno accolta con allegria e affetto, qui si sente come a casa. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.